Vicenza, Anconetta, raccogliamo la protesta della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap che punta il dito contro il treno Minuetto in servizio sulla tratta tra Vicenza e Schio, dotato di una porta d'accesso riservata agli invalidi. Peccato che la rampa non sia però omologata. Solo le stazioni di Schio e Vicenza hanno la banchina allo stesso livello dei binari. Tutte le altre hanno uno scalino di dimensione variabile che non consente l'accesso autonomo di una persona in carrozzina. Noi di Rete Veneta ci uniamo alla richiesta dei portatori di handicap che Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana adeguino convogli e stazioni.